Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, questo è un video spacchettamento stenom. Andiamo subito a vedere i prodotti ordinati dalle miei clienti. Abbiamo questo prodotto qui, che è per le finestre, pulitore vetri, vedete? Il formato di questo prodotto è di 400 ml. Poi, quest'altro prodotto qui, che è un pulitore 2-1-1 per lavatrice e lavastoviglie, il formato è di 500 ml. Uno sgrassatore, questo qua concentrato, per stoviglie e superfici. Il formato è da 1000 ml, mi ricordo che è uno sgrassatore concentrato. C'è quest'altro prodotto, un pulitore quotidiano per il bagno, il formato è sempre da 1000 ml. Poi c'è questo prodotto, uno spray a secco disinfettante espresso, da, vi dico subito, 300 ml. Poi c'è questo prodotto, che è buonissimo, è un insetticida contro insetti volanti e striscianti. Il formato è di, vediamo subito, 300 ml. Poi, sono arrivati i cataloghi nuovi, che ho ordinato per le mie clienti, che poi sfoglieremo insieme in un video dedicato solo al catalogo. Ragazzi, io spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici. Noi, come sempre, ci rivediamo in un prossimo video con tante altre novità, sempre esteno. Qui sotto vi lascio il link anche del canale di mio fratello, Serluco Mannaro, e anche i nostri link, sia di TikTok, il mio, che il suo. Ragazzi, io vi saluto e, come sempre, ci rivediamo in un prossimo video con tante altre novità. Grazie. Where Iscriviti